Buona padagna a tutti. Un intervento inizialmente tecnico a cavallo tra federalismo e giustizia. Stiamo vivendo in questi giorni la riforma delle circoscrizioni giudiziarie con tutti i problemi che nascono da un provvedimento centralista. In uno Stato federale come la Germania, come la Svizzera, l'amministrazione della giustizia, quindi comprese le assunzioni dei magistrati, degli ausiliari di giustizia, la definizione delle circoscrizioni, fermo restando la codificazione a livello centrale, è di competenza di cantoni e di lender, quindi delle regioni. Se ci fosse questo non avremmo quegli accorpamenti, quelle cose sciagurate di cui tutti si lamentano. Non so se è il caso di inserirlo anche questo, l'amministrazione della giustizia, in questa mozione. Lascio ad altri la valutazione. Adesso faccio brevemente una considerazione più politica. Non è cambiato niente nella Lega. Gli ideali sono sempre gli stessi. È cambiata qualche persona, ma l'ideale è sempre lo stesso. Questa è la cosa che importa. Però come realizzare quanto stiamo proponendo in maniera giusta, in maniera precisa in queste giornate? Col consenso. Siamo in democrazia, non facciamo colpi di Stato e quindi ci vuole il consenso. E come raggiungerlo? Innanzitutto, questa unità di ideali che esiste deve anche avere un'unità di comportamenti e di atteggiamenti. Poi, avere i risultati. Abbiamo promesso tanto e per varie ragioni. La maggior parte non per colpa nostra, ma in ogni caso non sono stati raggiunti. E quindi dobbiamo porci questo preciso obiettivo, ottenere qualcosa per dimostrare non solo che abbiamo le idee, ma che siamo capaci di realizzarle. Non siamo dei professori con tutto rispetto, siamo dei politici che devono portare a casa i risultati. E questo lo possiamo fare in Parlamento ben difficilmente. Non ci siamo riusciti in maggioranza a figurarsi adesso che siamo all'opposizione. Però possiamo stimolare. Esistono nei regolamenti parlamentari delle procedure che prevedono quantomeno di portare obbligatoriamente al voto le nostre proposte. Poi potremmo sempre dire che la proposta c'era buona, gli altri l'hanno bocciata. Questo lo possiamo fare. Ma soprattutto, parlo di macro-regione, io ho il massimo rispetto per l'Umbria, la Liguria, la Toscana, eccetera, però siamo al governo in tre regioni, con i nostri presidenti di regione. E' lì che stiamo facendo. E' lì che dobbiamo ottenere i risultati. Non tutto è uscito in segretaria politica, ci sono delle idee che il tempo non consente di illustrare, ma attraverso soprattutto le regioni che si può far vedere che la Lega ha le idee concrete, ma riesce soprattutto a realizzarle. E non solo le regioni, ma anche gli enti locali, le province sono in una fase un po' di limbo, ma soprattutto nei comuni dove i nostri sindaci soprattutto dimostrano la validità delle nostre idee, la capacità di realizzarle e tutto questo porta al consenso. E' quel consenso che in democrazia serve perché le idee possano camminare e arrivare al compimento. Grazie e buona padagna a tutti.